Benvenuti al corso di Business Modeling, un manuale per creare modelli di business. Che cos'è un modello di business? Usando le parole di Alexander Osterwalder, ideatore del Business Model Canvas, il Business Model descrive la logica con la quale un'organizzazione crea, distribuisce e cattura valore. Un'azienda crea valore per i propri clienti quando li aiuta a svolgere un compito importante, soddisfare un desiderio, risolvere un problema. Il Business Modeling consiste nel creare una rappresentazione della struttura, dei processi, dei dati e dei sistemi di un'azienda. Lo scopo è quello di comprenderne il funzionamento dei singoli aspetti e del loro insieme, così da poter individuare inefficienze, intervenire sugli aspetti meno performanti e, quindi, migliorare il funzionamento generale dell'azienda. Il Business Modeling può essere utilizzato per una vasta gamma di scopi, tra cui la pianificazione strategica, la creazione di nuovi prodotti o servizi, l'ottimizzazione dei processi aziendali e la creazione di sistemi informatici più efficienti. In generale, il modello di business può aiutare le aziende a comprendere meglio se stesse e il loro ambiente operativo, identificare opportunità di miglioramento e implementare cambiamenti per raggiungere obiettivi a lungo termine. A prescindere da quale sia il tuo ambito di attività, per avere successo devi creare valore per i tuoi clienti. Ed è proprio per questo motivo che il primo documento di cui hai bisogno, quello che ti aiuterà nella pianificazione strategica, è una mappa del tuo Business Model. Non del Business Plan, che potrai declinare correttamente solo dopo aver compreso e validato il tuo modello di business. Un concetto chiave di ogni modello di business è il valore offerto, ma come si misura il valore? Il valore percepito dal cliente è dato dalla differenza tra benefici ricevuti e costi sostenuti. Mantenere uno standard di qualità elevato e applicare un prezzo finale accessibile è, per esempio, uno dei migliori modi per accrescere il valore percepito. Per stabilire un modello valido bisognerebbe conoscere chi è il tuo cliente, quale valore puoi generare e come puoi crearlo mantenendo i costi ragionevoli. Un modello di business è composto da tre parti. Uno, tutto ciò che riguarda la progettazione e produzione del tuo prodotto. Due, tutto ciò che riguarda la vendita del prodotto, dalla ricerca dei clienti giusti alla distribuzione. Tre, tutto ciò che riguarda il modo in cui il cliente pagherà e il modo in cui tu guadagnerai. Creare un prodotto che interessi il pubblico è l'obiettivo di ogni startup. La mancanza di tale interesse conduce sempre al fallimento della stessa. Purtroppo la maggioranza delle startup spende quasi tutte le proprie risorse, per così dire, in sede, cioè nella creazione e sviluppo di un prodotto o servizio, piuttosto che misurare l'interesse reale del mercato. Il Customer Development è un business model che prevede un'attenta analisi del mercato e come questo recepisce il prodotto proposto. Il metodo del Customer Development emula gli stessi principi del metodo scientifico. Si formula un'ipotesi riguardante un prodotto. Si crea un test o un altro modo per verificare l'ipotesi sul mercato. Si esegue il test e si raccolgono i dati o le statistiche che questo produce. I dati raccolti in questo modo servono a validare, invalidare o modificare l'ipotesi iniziale.